Ciao a tutti, oggi vediamo come fare l'incarico della storia e ottieni dispositivi di sorveglianza presso luoghi nelle terrette isolate. Allora, adesso ne ho già presi un po', comunque dovete andare nei punti indicati sulla mappa, molto easy, quindi quasi un tutorial inutile, ma lo faccio vedere per farvi capire qual è il dispositivo. Quando vi avvicinerete abbastanza apparirà questo simbolo col punto esclamativo e questo è il dispositivo, questo carino, bastate che schiacciate, lo toccate, quadrato e via, fatto, andate a prenderli tutti e sei avete completato l'incarico, balbetto pure. Vi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate il like, se va codice creatore oggi, bella lì!